Musica Supponiamo che noi non vogliamo installare un software craccato oppure modificato, decompilato e volete navigare su internet liberamente Questa procedura vi assicura per il 90% di tutti gli script e codici malevoli di divenire immuni a tutto ciò Come procedere? Prima di tutto andiamo a configurare Windows, in particolare l'account Andiamo sul pannello di controllo, successivamente su account utente Adesso scopriamo perché Windows è così vulnerabile La prima cosa che dobbiamo capire è Il primo account fa parte di un gruppo Qual è questo gruppo? È administrator Piccola chicca Allora, l'account adesso, siccome non ha i privilegi più elevati Se noi digitassimo sul prompt dei comandi Who am I Slash priv Abbiamo la lista dei privilegi dell'utente in formato standard Adesso apriamo un altro prompt dei comandi come amministratore Andiamo a vedere la differenza che c'è tra l'avviarlo come utente base e amministratore Riscriviamo dunque la formula precedente Come potete vedere si ha una differenza abissale Tutte queste stringhe, nomi, sono tutti i privilegi che vengono dati a quest'utente Quando noi navighiamo su internet come primo utente Cioè l'account che fa parte del gruppo administrator Noi esponiamo il computer a determinate modifiche Come potete vedere ce ne sono un bel po' Anche il più semplice dei virus Ovviamente creato con un'architettura 64 e 32 bit Può creare i danni che tipicamente può fare Allora la prima cosa da effettuare è distinguere l'utente standard con quello guest Che è appunto il deploy exploit di questo account administrator Clicchiamo su gestisci un altro account Ne andiamo a creare uno nuovo Lasciamo l'impostazione predefinita del tipo di account Come nome utente mettiamo utente standard E lo creiamo Possiamo impostare anche una password La cosa più importante però è il primo account Mi raccomando L'account administrator che è differente da quello standard Attenzione È un account che va per forza protetto con una password Mi raccomando questa password Cercavetela di farla complessa E che ve la ricordiate sicuramente Quando digitiamo la password Dobbiamo capire quali numeri e caratteri speciali si possono utilizzare Allora i caratteri tutti quanti dunque maiuscolo e minuscolo I numeri di tutti quanti perché non fanno distinzione E poi simboli che non si possono utilizzare tutti quanti Poi se volessimo andare a vedere nella guida di Windows Ci sono spiegate tutte le possibilità di mettere determinati simboli Allora veniamo a noi Deve innanzitutto essere lunga e come detto in precedenza ricordata Poi passiamo all'account guest che al momento non è attivo È quello che ha i privilegi minimi Gli ACL a disposizione di questi account sono veramente quasi tutti di mediazione E quindi i problemi non ce ne saranno sicuramente Più che altro è lo switch che si può fare dall'utente guest a quello di gruppo administrator Che ha i privilegi più elevati dunque l'amministratore Dunque richiederà una password Mi raccomando non dovete digitare la password di amministratore dell'utente guest Altrimenti il deployt che si fa attivando l'account guest sarà inutile Quindi andiamo ad attivare l'account guest E si naviga su internet con l'account guest Questo è l'importante Mi raccomando fate questo Invece per tutto quanto cioè installazione di applicativi eccetera Utilizzate l'account standard Che scoprirete avrà all'incirca a disposizione tutti i programmi che sono installati come amministratore Forse sarà assente qualche cosa chissà Comunque bene o male saranno presenti quasi tutti i programmi messi a disposizione dell'account administrator Se non ci fossero ovviamente bisognerà installarli Ed infine elaborate esclusivamente con l'account standard L'account guest solo per la navigazione sul web Senza installazione di programmi Potete scaricare e visualizzare video o foto Ma non modificare altro e soprattutto installare software Bene per questo video è tutto Ci rivediamo al prossimo tutorial Grazie a tutti